Bellissimo! Deviante, monomar, card cross Riparte dall'ultima posizione, davanti con i 72 ogni piedi su Con 76 abbiamo Blanche Che dobbiamo recuperare dalla prima Manchi Nella quale era andato fortissimo Ma essendo partito in anticipo È stato classificato sessimo E in 30 secondi di penalità Adesso si muore assolutamente di fare Quindi saranno interessanti i tempi sin dalla prima tornata